Buongiorno, io sarei pronto per il bollettino. Siamo giusti? Stiamo avviando verso i 10 milioni. Allora, i positivi nelle ultime 24 ore sono 507. Su 9.888 tamponi sono il 5,13% di incidenze. Il numero di positivi dal 21 febbraio è 389.942. I positivi di oggi sono 36.986. Come vedete si cala perché eravamo a 39.000. Venerdì santo, venerdì prima di Pasqua c'è un calo di positivi in quarantena. Ricordo sempre a beneficio magari di chi si fosse perso questa descrizione che di solito i dati sono questi. Il 50% dei positivi non ha sintomi, quindi 18.000 più o meno, sono 18.500, non hanno sintomi. Gli altri 18.500, l'altro 50% ha sintomi. Quanti non possono venire curati a casa? Lo diciamo perché spesso sembra che ci sia qualcuno che accarezzi l'idea di pensare che si possa far tutto senza l'ospedale. Il 5% purtroppo dei positivi sintomatici ha bisogno di cure intensive e quindi infatti noi abbiamo 2.287 persone ricoverate in ospedale più 50 pazienti. Come si articolano questi 2.287? Più 37 in area non critica, sono 1.972 pazienti ricoverati in area non critica e 315 in terapia intensiva più 13. Se sommiamo la terapia intensiva covid a quella non covid, vediamo che il totale dei pazienti ricoverati, vedete, sono 2.64 più 3.15, 3 più 2.5, 3 sono 575, 79. Prego. 579 persone in terapia intensiva. Totale dei morti 10.770 più 15 purtroppo e il totale dei dimessi dall'ospedale ad oggi sono quasi 18.500. Allora, due ragionamenti. Il primo che da oggi è giornata arancione. Come dico sempre io, non è un gioco a premi, no? Non è che abbiamo vinto qualcosa. Abbiamo avuto due dati che seppur, diciamo, ai limiti in zona Cesarini, sia per l'incidenza che per l'R con T, avevamo avuto due dati la scorsa settimana in calo sotto i parametri da zona rossa, di poco, soprattutto l'incidenza, ma siamo sotto, per dire, il Friuli Venezia Giulia, noi avevamo 1.18 di R con T, 1.12. Friuli Venezia Giulia è sotto l'1, però ancora in rosso perché ha l'incidenza sopra i 2.50. Noi invece avevamo un po' di meno, sia sull'incidenza che sull'R con T, della soglia stabilita. 2.27 noi avevamo. Allora, cosa voglio dirvi? Voglio dire una cosa che, e continuo a ribadirlo, la responsabilità gradualmente passa in capo a noi, no? Meno restrizioni, più responsabilità individuale. L'invito a tutti i cittadini a non trascurare questa fase perché bisogna, come si può dire, non si può essere né negativi né positivi, bisogna essere obiettivi quando si parla di cose così serie come il coronavirus. Noi abbiamo 315 persone in terapia intensiva, 315 persone sono sostanzialmente in linea quasi con quelle della prima ondata di marzo, non sono poche. Per carità, siamo più performanti nel curarle, abbiamo cure e protocolli diversi rispetto a marzo dell'anno scorso, siamo comunque oggi con un modello di terapia intensiva che non è più quello di marzo dell'anno scorso. Vi ricordo che se fossimo a marzo dell'anno scorso noi lasceremo a piedi almeno 100 persone, non riusciremo a ricoverarle, 150 persone in questo momento in terapia intensiva. Per dire che ci siamo, però il virus c'è, perché quando tu hai ancora la presenza del virus di persone che sono costrette a recarsi ai centri di tampone per fare il tampone e troviamo positive, abbiamo 36.000, quasi 37.000 persone isolate in casa, vuol dire che il virus c'è. Quindi il mio appello è di non abbassare la guardia. Ne veniamo fuori, questo poco ma sicuro. sono convinto che ancora non è, come si può dire, non si è imboccata la via della discesa nel curvo, perché lo si vede, c'è questa altalena, due o tre giorni con cali, poi c'è una ripresa. Adesso non guardiamo questo più 13 di oggi, che dopo due giorni di festa possono essere dati caricati, ovviamente è comprensibile, prima si curano le persone, poi si caricano i dati. Però, insomma, io direi attenzione, attenzione estrema. Sappiamo che l'età media del contagiato è 54 anni, questo ci dice che abbiamo abbassato l'età media, perché? Perché avendo vaccinato ovviamente gli anziani dell'RSA per primi, avendo vaccinato classi di età, diciamo, in su, no? Gli over 80, significa che il virus li trova meno, diciamo, ospiti da aggredire, da colonizzare. E quindi è inevitabile che adesso la nostra fascia target sia quella della mia età, no? C'è l'età media, quella dei 54, io non ne ho 54, insomma, l'età media. Ovviamente ci sono anche i 60 anni, gli over 60, c'è ancora qualche anziano, over, però, attenzione che il virus non lascia scampo. Ripeto, su 100 positivi, 50, gli vada Dio, non sapranno mai di essere positivi, perché non faranno sintomi. L'altro 50% avrà sintomi. E su 100 positivi, almeno il 5-7% dati internazionali, che, guarda caso, noi li ritroviamo nelle nostre condizioni, 5-7% di quei 100, cioè 5-7 persone, andranno in ospedale per cure intensive, che vanno da malattie infettive, pneumologie, casco, flussi di ossigeno, fino alla terapia intensiva. Ringrazio tutti gli operatori che stanno subendo, anche in questa fase, un forte stress, perché comunque è uno stress sanitario nelle cure, al quale si aggiunge quello delle vaccinazioni. Le vaccinazioni rappresentano la luce importante che vediamo in fondo al tunnel. Lo dico oggi, dopo Pasqua e Pasquetta, i cittadini dico che noi non abbiamo più quei focolai che conoscevamo delle case di riposo, ma soprattutto voglio ricordarvi che non conosciamo la parola focolaio nelle strutture sanitarie. Vi ricordate a dicembre, non solo in Veneto, in tutta Italia quanti focolai ci furono negli ospedali. Questo perché? Perché abbiamo vaccinato. Si continua a vaccinare, ormai siamo intorno al milione di dosi, insomma siamo appena sotto al milione di dosi. L'abbiamo superato? Abbiamo superato il milione di dosi. Abbiamo oggi circa 150.000, più o meno 140.000, scusatemi, sulle 140.000 dosi a disposizione stamattina per le vaccinazioni. Abbiamo avuto ovviamente una flessione al periodo pasquale che è ragionevole. Considerate che Pfizer non c'era più, tanto per dirne una, no? Pfizer siamo arrivati a zero. Cioè già la domenica era zero. E adesso abbiamo tanto AstraZeneca e possiamo anche dare i numeri di oggi, quanti ne abbiamo, così avete uno spaccato di quanti ne abbiamo. Grazie. Allora, noi abbiamo, c'è un bel dato se vi interessa nella tabella, ma questo è proprio il segno che siamo veneti. Vedete, Pfizer c'è scritto meno 6.000 dosi. Uno dice, ma cosa è successo? Perché abbiamo qualche, uno che è bravo e che lo fa fino in fondo, che riesce a tirare fuori la settima dose della boccetta. e allora a noi viene fuori il dato negativo o no? Perché sembra quasi che noi abbiamo fatto più dosi di quelle che avevamo. Partendo dal presupposto che sono sei dosi, se tu peschi da alcune boccette la settima dose, cosa succede? Che il nostro software dice, scusa, qui avete somministrato vaccini che non avevate e quindi si dà meno 6.000. Quindi sono 6.000 dosi guadagnate da questa saper fare. Come su altri flaconi, si pesca anche all'undicesima dose. Allora, voglio dirvi solo che abbiamo 39.547 moderna e 99.429 AstraZeneca. In totale stamattina l'apertura dei cancelli, per dire, avevamo 132.371 dosi. Cioè, sommate i due, fa 132.371. E arriveranno in settimana ovviamente altre forniture. Oggi avete capito che Pfizer non ne abbiamo. Quindi anche qui un'ulteriore frenata per gli over 80, per le comorbidità, per i fragili, per le disabilità. Perché anche lì si sta presto a guardare i numeri. Ma bisogna sapere anche da dove partiamo. E considerate che noi Pfizer non è che lo abbiamo dedicato a chi non aveva titolo. Per cui abbiamo anche questa difficoltà. Cioè il vaccino non ce n'è la sufficienza per la nostra capacità di vaccinare. Si va avanti. Adesso, domani mattina, avremo una riunione importante con i direttori. Ho chiesto che ci fosse. So che l'assessore ha convocato una riunione alla quale vogliamo partecipare anche noi. E per ancora portare alcune idee ancora più performanti nella vaccinazione. Considerate che noi abbiamo adesso mediamente ogni settimana 150.000 dosi di vaccino fino a fine aprile. Se ne arrivasse di più vaccineremo con molta più rapidità. Però, insomma, è verosimile che si chiuda velocemente il giro degli over 80. Abbiamo, tra over 80 e fragili, e disabili, abbiamo circa 400.000 persone da vaccinare, ma lo possiamo fare velocemente. se arrivano i vaccini con la nostra capacità di vaccinazione ce la facciamo. Non ho altro da aggiungere, se non dirvi, che domani c'è una bella apertura. Ringrazio il direttore Contatto, perché dopo tante, tante, diciamo, discussioni in senso positivo, domani apre all'Expo Venice, apre il nuovo centro vaccinazioni, e abbiamo, ciao Marco, e abbiamo dato, grazie, e abbiamo dato un target importante, perché lì basta metterci linee vaccinali e quello diventerà un punto di riferimento per il veneziano. Domani mattina apre, si parte, domani mercoledì, 7 aprile, si inizia con le vaccinazioni. Altre notizie, non ce ne sono, e passerei la parola alla domanda, prego. Parisi, Tosatto, Lanzani, ho evitato l'apertura delle scuole, ma diciamolo ai cittadini, ai genitori, domani, oggi, oggi si potevano già aprire i nido e gli 06. Per quanto riguarda invece le scuole dell'obbligo, si va direttamente da domani, e quindi sono aperte le elementari, le medie, e le superiori sono aperte al 50%, solo le superiori al 50% in presenza, quindi si fa la data al 50%, quindi ci saranno dei giorni in classe e dei giorni a casa in didattica a distanza. Parisi, prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato dopo Pasqua. Dunque, per quanto attiene appunto alle scuole, domani rientro con la didattica al 50% e oggi con i bambini, gli alunni del materno e nido. di quanti studenti e bambini stiamo parlando e su un totale di quanti? Questa è la prima domanda. Poi, cosa prevede il piano trasporti, se è stato potenziato per il trasporto pubblico locale e in che misura? Per quanto attiene sempre alle scuole, facendo un passo indietro, a quanto ammonta il personale scolastico che è stato vaccinato, se si può sapere questo dato o quando è possibile saperlo, per cortesia? Guardate, se rispetto al personale scolastico abbiamo anche, se lo vediamo nella tabella, vediamo la percentuale esatta. Sì, io mi ricordo appunto 68 e una roba del genere. E allora, il vicepresidente De Berti ha programmato con le aziende i trasporti per il 50% di DAD che noi abbiamo fatto anche collaudato, vi ricordo che con l'apertura di febbraio delle scuole noi siamo partiti subito con i trasporti con la DAD dal 50%. È previsto dal decreto vorrei ricordare magari se qualcuno, anche per evitare che qualcuno perda tempo a scrivere robe che poi non stanno nel cielo intero, vi ricordo che c'è una legge nazionale che prevede questo, che le superiori in area arancione siano, in zona rossa non si aprono, in area arancione si aprono con la DAD dal 50 al 75% e via potenziale come si fa sempre si parte col 50%. Per quanto riguarda il contingente totale posso dire che il dato totale di tutte le nostre scuole a regime è di 700.000 persone con gli operatori. Considerate che di fatto la giornata in cui sono tutti in presenza è da 700.000 persone. Invece dicevamo il personale scolastico vaccinato 68% 70% 60% 60% perché mancano ancora certamente 40% sì ma come mai non hanno ancora aderito perché Mandrake non esiste perché fanno parte di quella categoria che ha rifiutato AstraZeneca nel senso che si è pianificato si è fatto abbiamo avuto un sacco di abbandoni ricordiamo anche questo perché c'è stata una fase nella quale potevamo vaccinare perché avevamo la possibilità di vaccinare soprattutto pensate quando si utilizzava l'AstraZeneca con under 55 cioè sotto i 55 sotto i 65 era ideale per il mondo della scuola e furono le settimane degli abbandoni e adesso abbiamo un momento da recuperare però obiettivamente abbiamo gli over 80 da chiudere e dobbiamo chiudere gli over 80 non si discute su questo gli over 80 i fragili i disabili eccetera penso che ci sia tutta la comunità d'accordo sul fatto che ci sono delle priorità in questa fase penso che sia fondamentale mettere in sicurezza un disabile una persona fragile che ha comorbidità un immunodepresso o altro quindi presidente per la parte ferma e restando queste premesse per la parte restante del personale si va avanti si farà certo una lista al pari del personale sanitario con lo stesso principio sì sì assolutamente sì ovviamente capite che noi avendo poca disponibilità di vaccini dobbiamo puntare agli over 80 e ai cittadini frasi della disabilità e parallelamente anche gli insegnanti ma quelli sono i vaccini sì perché non ci sono insegnanti che non intendono vaccinarsi ci saranno magari non lo sappiamo vabbè non ci resta che attendere a questo punto esatto grazie prego buongiorno presidente buongiorno prima di tutto a proposito dei focolai sventati nelle case di riposo e nella sanità arriva una segnalazione invece di un focolaio in una casa di riposo di San Donà da parte di alcuni familiari poi potremo fornire gli estremi a noi non hanno segnalato nulla e con una certa sorpresa perché dicono ma le visite non ci sono il personale e gli ospiti sono vaccinati non si capisce sarebbero più casi comunque sarà interessante verificarlo per capire quanti vaccinati ma neanche farsi un focus capire quanti erano i vaccinati tra gli operatori tra gli ospiti e vedere quanti sono infettati sì appunto e invece un'altra domanda mi scusi un'altra domanda riguarda le possibili aperture dopo il 20 c'è stata una interlocuzione tra i presidenti delle regioni e il governo se ne è parlato sui giornali e mi interessava sapere insomma quali sono le ipotesi quali sono le vostre richieste se ci sono delle prospettive no nel senso che vorrei ricordare innanzitutto che il decreto prevede il decreto che ha fatto questo governo prevede zona rossa zona arancione fino al 30 di aprile senza alcun'altra variazione nel senso che in base ai parametri o sei in rosso o sei in arancione dall'altro prevede anche un varco nel decreto in cui si dice qualora le condizioni sanitarie epidemiologiche ecco passatemi questa descrizione fossero tali per cui si possa pensare a rintrodurre ulteriori zone quindi ulteriori diciamo allargamenti quindi sparizione di restrizioni lo si farà immagino che la discussione sarà in questi termini io personalmente sono convinto di una cosa che il modello 21 parametri premessa fondamentale bisogna essere obiettivi nel guardare i dati e riconoscere che c'è il virus e che c'è pressione ospedaliere qui non si può negare l'evidenza dall'altro è vero che se da un lato c'è una pressione sanitaria che gestiamo dall'altro è altrettanto vero che c'è un problema economico ce n'è uno sociale uno psicologico nei cittadini è innegabile tutto questo tutto ciò premesso penso che il modello che ci valuta oggi che è quello di 21 parametri diventi giorno dopo giorno sempre più inattuale e anacronistico perché è un modello costruito in un momento epidemiologico e di infezione in cui ad esempio pensate non esisteva una diagnostica aggressiva come quella che riusciamo a fare oggi non esisteva un sistema di cure come quello riusciamo a fare oggi sia a livello domiciliare che a livello ospedaliero ma soprattutto non esisteva il vaccino quando è stato scritto c'è l'effetto del vaccino che non è un effetto irrilevante cioè voi dovete pensare che se è vero che per l'estate comunque la parte di popolazione più a rischio che è quella degli over 65 over 70 sarà vaccinata capite che un modello con i 21 parametri si sposa poco con uno scenario che è uno scenario nuovo che è quello delle vaccinazioni quindi so che stanno lavorando la dottoressa Russo fra l'altro è punto di riferimento anche di questo gruppo di lavoro nazionale però io spero e auspico che lo facciano velocemente io l'ho detto in più occasioni oggi bisogna rivedere il modello ma questo non perché va di moda dire che bisogna aprire perché il modello davanti a questa molle di vaccinazioni va comunque dal punto di vista scientifico rivisto perché rischiamo di correre dietro dei parametri che non hanno più senso di esistere o di essere valutati se è vero che chi è vaccinato non si infetta perché se io ho un parametro l'R con T un significato ce l'ha con i cittadini senza vaccino un altro significato ce l'ha se la popolazione è vaccinata l'ho capita da soli quindi questo è il primo aspetto dopodiché noi avremo questa riunione giovedì con il Presidente del Consiglio immagino si parli di recovery fund e si parli anche di prospettive per la crescita e per l'economia ad oggi non c'è una richiesta che diciamo che si è formata i governatori si incontreranno prima per fare un punto diciamo della situazione dico semplicemente che ci vorrà il buon senso di sapere dosare diciamo la voglia che abbiamo tutti di aprire con quella che è di preservare la salute diciamo dei nostri cittadini penso che la verità stia nel mezzo non stia né dalla parte del liberi tutti ma tantomeno dalla parte di chi dice che bisogna restare chiusi tutti penso che comunque ci voglia una gradualità ecco iniziare con una gradualità sì sì e lo avete visto che già passando da rosso arancione che non è che possiamo fare i salti di gioia se siamo ancora chiusi nei confini comunali vorrei ricordare abbiamo ancora i ristoranti e i bar chiusi eccetera però abbiamo già iniziato con un percorso se fra una settimana arrivasse il giallo sarebbe un altro percorso perché si aprono i bar i ristoranti si tolgono i confini comunali e così via però i cittadini devono sempre aver fissa una roba bisogna vivere in sicurezza quindi portare mascherina lavarsi le mani igienizzazione delle mani e distanza quindi oggi non c'è una proposta nello specifico Filippo lei come si immagina l'estate libera io me le immagino io non sono uno scienziato gli scienziati sanno sempre tutto quindi potranno dirci anche cosa accadrà fra cento anni io dico che me le immagino libera perché se mi danno vaccini ci metto insieme il combinato disposto della stagione che comunque ci darà una mano guardate io ho sentito un sacco di dibattiti su queste robe però ho visto che quando arriva il caldo questo virus si comporta un po' come virus influenzale no? il professor Pallucci ha detto i raggi o i vitrovioletti hanno comunque il loro effetto ok dall'altro però l'estate per i veneti cosa sarà sarà e penso anche per gli italiani sarà il poter dire che fra due mesi il 21 giugno è estate giusto? fra due mesi due mesi abbondanti noi se procediamo con i vaccini che abbiamo avremo un milione e mezzo di vaccini inoculati in più di quelli di oggi se gli aggiungo a quelli di oggi sono due milioni e mezzo di vaccini giusto? diviso due fa un milione e due vuol dire che comunque già ho messo se sono partito dall'alto dell'età e vengo in giù sono partito dai 111 anni e vengo in giù abbiamo un cittadino di 111 anni e vengo in giù avrò sicuramente messo in sicurezza intanto coloro che se si prendono il virus rischiano tanto e dopo di che andremo avanti a procedere con queste vaccinazioni io penso anche che ci debba essere un nuovo rinascimento per l'economia perché abbiamo sofferto troppo guardate che noi ci trasciniamo una tragedia che è iniziata nel 2008 con il crollo della Lehman Brothers con le banche non è che parto distante ma vi ricordo che noi abbiamo affrontato i problemi del sistema bancario internazionale abbiamo vissuto crisi pesanti pensate al 2009 2011 non c'era lockdown ma l'autostrada era vuota forse qualcuno non se lo ricorda più che erano spariti i camion dall'autostrada e poi avevamo iniziato un minimo a respirare e c'è arrivata sta ammazzata del coronavirus però adesso se abbiamo 209 miliardi e vengono investiti bene per aiutare imprese e occupazione non per far comprare monopatti in altre monate del genere ne veniamo fuori ne dobbiamo venire fuori incontro solo imprenditori che hanno voglia di fare lavoratori che vogliono lavorare concludo concludo lei pensa che le regioni avranno avranno un ruolo in questa in questo investimento delle covere guardi le regioni sono solo le uniche realtà che sono in grado di mettere a terra come si dice gli investimenti perché comunque hanno i ferri in acqua perché comunque hanno un rapporto col territorio che permette di vedere subito realizzate le opere se il governo ci mette una visione non medievale centralista ma rinascimentale ovvero federalista se ci mette la sburocratizzazione ci mette elementi commissariali ad esempio dobbiamo fare il policlinico universitario di Padova se si fa un ponte in due anni lo possiamo fare in un ospedale in due anni o no? o partiamo sempre dal presupposto che qualcuno deve rubare? ormai abbiamo collaborazioni con ANAC con la magistratura con tutti io non vorrei che con la scusa del sempre ma c'è sempre qualcuno che ruba le robe non si fanno più io penso che il governo se avrà visione dovrà assolutamente avere le regioni come partner e bracci operativi se la gestione è una gestione centralista allora sarà medievale ma immagino proprio di no e Renzan poi Moscati Petteno Giacomuzzo Radio Wellness ho capito bene e Pittarello buongiorno presidente ritornando buongiorno buongiorno sul tema vaccini domani è prevista la vedo è prevista Pfizer l'arriva la consegna domani è mercoledì quando è? domani è mercoledì doveva essere oggi hanno comunicato che è arrivato oggi è arrivato 10 minuti fa quante assessora? in base al bollettino che avevo io 125 mila mi sembra quindi questa settimana arriva solo Pfizer non arriva né Moderna né AstraZeneca quindi arrivano sono arrivate noi abbiamo previsioni solo di queste 125 mila di Pfizer perché non AstraZeneca oggi? perché non arriva nulla di AstraZeneca questa settimana infatti delle 4 settimane io vi dico sempre 150 mila a settimana perché faccio la media con altre settimane che hanno più di 150 mila c'è una anche da 166 mila mi sembra ad aprile poi ritorno invece sul tema delle prenotazioni si sta verificando un problema un po' grave per quanto riguarda le categorie deboli fragili nel caso specifico disabili 104 esatto non si riesce a capire se sia un problema dell'Inps che ha pare di sì però è comunque da verificare che ha fornito l'elenco delle persone che hanno diritto al vaccino le persone quando accedono al portale si ritrovano in questo elenco quindi vedono di essere inserite il cieco il paraplegico eccetera poi però il codice fiscale non viene riconosciuto forse dicono è perché l'inserimento dei codici fiscali è stato fatto da un determinato anno in su e quelli che invece sfortunatamente sono disabili da molto più tempo non vengono riconosciuti dal sistema questo però è un problema serio nel senso che abbiamo categorie di persone fragili che non riescono ad accedere ma non perché non possano perché è il sistema che non lo consente a questo si aggiungano siamo ancora in fase di rodaggio ma il numero verde ancora non funziona o si fa fatica ad avere risposte le mail mandate alle ULS che saranno oberati di lavoro ma non rispondono avete presente questa situazione e la state affrontando prego si l'abbiamo ben presente abbiamo scritto anche a tutti i medici in medicina generale ancora la settimana scorsa e credo che sarà in questi giorni farò anche un incontro perché noi dobbiamo avere assolutamente l'incrocio di alcuni dati con loro visto che c'è questa problematica per quanto riguarda 104 disabili oppure comunque quella legata dei minori disabili che comunque non compaiono perché sono sotto i 16 anni e quant'altro quindi è chiaro che c'è una problematica ce ne siamo resi conto gli elenchi tipo quelli sui disabili sono quelli che ci sono arrivati come a ogni regione da parte dell'Inps stiamo incrociando tutti i dati e cercando appunto di dare le risposte e quindi poi di permettere a tutti di fissare la vaccinazione anche per quanto riguarda i soggetti più fragili quindi altre categorie ci sono casi di persone che non rientrano nei famosi 200.000 persone che il SERD ha individuato quindi il servizio epidemiologico regionale con codice esenzione anche in questo caso stiamo cercando di incrociare i dati anche grazie tramite i medici medici nazionali che conoscono i loro assistiti di poter appunto avere delle segnalazioni e poi di permettere a tutte le persone di essere vaccinate quindi Assessore il consiglio che date a queste persone è quello di non prenotare più di chiamare il medico di base di attendere qualche giorno che consiglio date ma loro che prenotino nel momento in cui si riescono a prenotare nel senso se viene accettato il loro codice ma se invece non rientra tra la categoria dei fragili di chiamare il medico di medicina generale di essere segnalato tramite il medico di medicina generale e poi noi provvediamo alla vaccinazione quindi la catena sarà paziente medico di medicina generale in croce con l'Ulss con la regione e prenotazione extraportale domani mattina abbiamo comunque una riunione su questo quindi saremo ancora più precisi è un problema che non abbiamo solo noi però perché io mi sono confrontata con i miei colleghi ce l'hanno un po' tutte le regioni perché purtroppo nelle categorie dei cosiddetti fragili ci sono tante persone che oggi non hanno un riferimento perché sono soggetti di un'esenzione eccetera quindi è chiaro che in quel caso lì dobbiamo andare a ricostruirli io sono convinto che dovremmo inventarci qualcosa sempre con lo stile della pietra focaia cioè se non funziona se il mondo digitale non riesce a intercettare un disabile bisogna che noi riusciamo a inventarci un sistema con le chiamate libere ci stiamo pensando quindi come quello che è stato fatto sì però non voglio annunciare niente perché ci stiamo ragionando ho un'idea vediamo cioè sto ottenendo delle simulazioni perché capite non posso neanche creare un ingolgo di persone che hanno già dei problemi personali che si ritrovano magari a doversi sobbarcare ore di attese o problemi perché fino ad ora ha funzionato quel sistema bisogna capire farlo un po' sartoriale adesso ci stiamo che quello ci risolverà il problema alla base perché questo è il vantaggio come ho sempre detto io pietra focaia funziona sempre a fine un'altra cosa che volevo chiedere al suo solo presidente in tutte le ulse nel momento in cui si va a fare la vaccinazione la prima dose viene consegnato un foglietto con la data del richiamo oppure no perché arrivano segnalazioni di persone che dicono sono passati 26 giorni da Pfizer e non ci hanno ancora richiamato è possibile che ci siano stati casi particolari oppure è nella norma che tutti hanno avuto un fogliettino in mano con la data è possibile ma non è comprensibile e quindi se ci danno un riferimento me ne basterebbe uno me ne basta uno per discutere con il direttore generale è la sua US dopo le due riferimento grazie e l'ultima cosa a meno che non sia cosa dei primi giorni i primi giorni è stato l'altra cosa invece nelle elaborazioni del ministero scusate del ministero della struttura commissariale risultano tra i vaccinati le varie categorie ovvero tanta sanitaria eccetera c'è una categoria altri il Veneto è molto alto negli altri di cosa si tratta? me l'hanno già chiesto ho lo spelling ho tutta la cosa qua te la giro dopo cioè chi sarebbero? tutte le categorie degli altri l'hanno già chiesto com'è l'hanno già chiesto ai servizi no ma chi sarebbe non chiedevo c'è adesso devo riportare ah boh 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 grazie non pensavo ci fosse già no no non ce l'ho pronta ma dovevo già parlare l'hanno già chiesto a me prego allora scusate ho perso il giro Moscati sì buongiorno presidente buongiorno mi riallaccio quello che posso rispondere l'ho trovato adesso sì prego rientrano in questa categoria mi scrive la sanità molte voci fra cui le principali sono soggetti di età 70-79 persone estremamente vulnerabili entrambi come definite dal piano nazionale conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili disabili conviventi e o care giver dei soggetti disabili farmacisti detenuti quindi ci sono stati bravi ce n'è una marea vabbè giustamente pensandoci quando ho detto l'accompagnatore over 65 è un altro però per me è un'opera di civiltà perché poi sono coniugi alla fine se vaccino un over 80 che viene accompagnato dal coniuge non capisco perché non posso vaccinarlo quindi purtroppo sono finite le categorie altri vi ricordo sempre che ad oggi nei sette giorni siamo la regione che vaccina di più in Italia 59 vaccinazioni su 10.000 abitanti ecco sì mi scusi continuo riprendo quello che aveva chiesto la collega riguarda appunto sempre le prenotazioni nel portale soprattutto io gli dice faremo rispondere attraverso altri sistemi e prenotare altri sistemi io le ho provate tutte io le ho provate prima del portale dopo il portale è un mese che cerco a parte che ho avuto tantissime segnalazioni che cerco di fare vaccinare questo centenario e non ci sono riuscite sono ho telefonato a tutti sono andata anche personalmente all'ASL all'ospedale all'Angelo nella sede vaccinale e non c'è stato verso non si riesce a capire perché ripeto poi tanti mi hanno segnalato che io sono anche una che ci sta dietro alle cose però ci sono molti se non c'era qualcuno che stava dietro che non riescono a prenotare perché questi poveri anziani è vero che è facile ma è facile per uno che ha un po' di attitudine insomma perché bisogna comunque ogni volta che tu metti il codice fiscale se dopo riprovi fra una mezz'ora lo devi ridigitare per cui loro sono un po' diciamo insomma si trovano delle difficoltà con i numeri di telefono fanno sempre riferimento al portale e ti rimandano al portale anche se rispondono per cui non c'è verso grazie la domanda come si può fare a prenotare perché io ne ho tantissimi che mi mandano i nominativi anche i codici fiscali ma non sono mandrache neanch'io non ce la faccio allora partiamo da un presupposto che per vaccinarsi a meno che non siano chiamate dirette aperte dirette bisogna prenotarsi le modalità per prenotarsi sono quelle di andare in farmacia e chiedere alla farmacia che ti prenoti di chiedere a un familiare che ti prenoti online di telefonare al numero verde non ne abbiamo altre soluzioni appunto allora bisogna quell'anziano che si lamenta se deve fare un'ecografia o un attack o qualcos'altro cosa fa? purtroppo è un mese che tentiamo questa strada le abbiamo tentate tutte dopodiché è grave che lei mi dica ma è grave non per lei per quello che è andato in un centro vaccinale ha detto a un anziano di 100 anni da vaccinare che nessuno abbia risolto il problema io sono andata anche di persona ma è grave perché io penso che poi ci voglia anche buon senso minimo di umanità per capire che se uno da 100 anni vuole vaccinarsi che per noi è prioritario come stabilito dalla norma nazionale va vaccinato ecco dopo di che quel anziano ha anche un medico di base ma li abbiamo già provati se io sono arrivata qua dia il nome a me cosa vuole che le dica mi dia il nome però lei capisce che le ho detto tutta una serie di vagli io pensavo anche che avesse rinunciato e gli ho chiesto venerdì ci dia il nome e lui ha detto no io voglio vaccinarmi e ha diritto ad essere vaccinato tutto qua però lei capisce che stiamo parlando io e lei avrà un medico di base questo anziano ma i medici di base purtroppo me l'hanno segnalato anche altre persone molto spesso saranno occupati ovviamente tutti siamo impegnati ma non risponde nessuno per cui questo è il problema che ognuno rimanda all'altro al centro a questo e quello vabbè passa un'altra domanda così molto più anche questa concreta prego quindi io attendo il nome da lei sì io glielo do subito bene e invece per le terapie monoclonali che avevamo detto dovevano arrivare siccome si dice appunto ci sono ancora delle persone in terapia intensiva quello voleva evitare un po' le terapie guardi mi perdoni intanto siamo se lo potete scrivere adesso l'assessore vi dà il dato siamo i primi in Italia per l'utilizzo di anticorpi monoclonali mi sembra eravamo a 178 somministrazioni a settimana dopodiché io capisco che umanamente guardate io sarei il primo a dire queste robe però non è che possiamo fare il piccolo chimico noi a decidere adesso che parte un altro trip che se tutti fanno monoclonale non si riempie gli ospedali perché ci sono alcuni che li possono fare altri no potrei citare anche un esempio che ci tocca da vicino speravamo di fare una persona con disabilità con tutta una serie di problemi che non vi sto a dire ma importanti e invece sono detto guardate non possiamo farglielo perché perché c'è il tema di assunzione di altri farmaci quindi monoclonale va bene per chi va bene per chi è titolato però noi siamo i primi in Italia questo lo potete scrivere ricordavo diamo il nostro dato quello del secondo per dare un'idea noi siamo a 100 mi sembra 158 178 somministrazioni a settimana 151 su 386 monoclonali somministrati in Italia Veneto ne fa metà tanto per darvi una dimensione scusami senza citare le regioni sono regioni grandi come le nostre hanno fatto 1 3 5 4 vi dico i numeri che sono scritti qua 9 6 è il bollettino di AIFA cioè quindi noi ragazzi se ci rimandano col camion rimorchio li somministriamo però capite che questa è la fornitura che ci danno però non possiamo pensare che anche questa sia tipo jukebox media monetina via fuori monoclonale tutti liberi tutti sani magari forse così era che siccome lo chiedevano le persone chiaramente è umano a porsi questa questione grazie prego bene per te no buongiorno presidente buongiorno torniamo sulla questione vaccini lei sa bene che ci sono stati problemi in questi giorni in alcuni centri vaccinali che hanno avuto ripercussioni e polemiche ma quali problemi in quali centri ci sono stati a Verona che sono stati rimandati via perché situazioni contingenti anche all'arrivo dei vaccini ecco e al rapporto io volevo chiedere rispetto al rapporto ULS regione sul piano vaccinazioni come intendete andare avanti lei ha detto che domani avrete un incontro una verifica come pensate di affrontare appunto anche nelle prossime settimane quando si spera che i vaccini possano aumentare come arrivi e perciò pianificare un lavoro che sarà ancora più massivo verso la popolazione noi continuiamo a fare in modo che la nostra macchina vaccinale resti ancora tra i primi se non la prima in Italia per vaccinazioni provane sia che i numeri ci dicono che noi non facciamo magazzino dopodiché circa l'aspetto di Verona l'assessore ha chiesto proprio questa mattina una relazione dettagliata al direttore generale perché anch'io quando ho visto questo dato che circa 1100 persone sono state rinviate a casa perché non c'era più Pfizer dico che 1100 dosi averlo saputo Luca o la Manuela o chiunque le trovavamo ci sono anche i prestiti tra regione ci sono insomma li abbiamo fatti noi non capisco ma c'era il commissario nazionale che potevo chiamare personalmente quindi anche io evito di dire i commenti che ho fatto ma per me è incomprensibile è incomprensibile perché 1100 dosi comunque si dovevano trovare in una maniera o nell'altra si trovavano noi li abbiamo scoperto a cose fatte perché qualche cittadino ce l'ha segnalato ci scusiamo anche se non dipende da noi con quei cittadini avranno un trattamento diciamo come si può dire preferenziale perché comunque hanno subito un disagio per carità non è la morte è subito il disagio che c'è perché dopo bisogna guardare anche in faccia la realtà può sempre esserci un problema però è pur vero che 1100 dosi non siamo il 27 dicembre quando abbiamo iniziato a vaccinare insomma giriamo 150 mila dosi alla settimana in ogni caso rispetto appunto al rapporto nel piano vaccinale con le USL come saranno sempre le USL a farsi carico del piano vaccinale con un coordinamento regionale anche nelle prospettive future rispetto alla piattaforma e al numero verde eccetera eccetera assolutamente sì perché il piano vaccinale ha delle linee guida generali regionali e poi diventa un abito sartoriale nel territorio perché c'è chi ad esempio ha già ultimato delle categorie vaccinali e ampliere ad altre per cui è ovvio che è fondamentale che la ULS gestisca le sue categorie vaccinali con la gestione del portale e anche dei rapporti con i medici di base con le farmacie torno a una domanda che aveva già fatto il collegato Zatto incontro con il governo siamo in zona arancione si parla appunto di rivedere le fasce lei l'ha detto cosa vuol dire come la vede come prospettiva perciò del futuro l'organizzazione delle delle possibili o meno riaperture tra le polemiche che vi sono ancora anche tra le forze politiche intanto bisogna avere l'obiettività di vedere la situazione sanitaria e del contagio dell'infezione quindi i dati sono dati e non si possono negare dall'altro penso che il modello di valutazione dei territori fatto dall'Istituto Superiore della Sanità del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale debba essere tagliandato e rivisto perché oggi ci sono degli elementi nuovi tra i quali non irrilevante l'elemento delle vaccinazioni grazie prego Giacomo Muzzo buongiorno buongiorno in tema di varianti adesso si sente parlare di quella giapponese lei ha qualche contatto o ha avuto qualche novità su questa variante ma questi sono tutti aveva dei contatti anche in Giappone ogni tanto ce ne parlava sì mi ha dato un'idea dopo lo chiamerò al di là che si chiami variante giapponese che magari non sia neanche più presente in Giappone che sia in giro per il mondo questo non sappiamo dire ecco ricordiamo i cittadini che queste sono noi le chiamiamo varianti comunemente geneticamente potremmo definire mutazioni o meglio ancora qualcuno le definisce fenotipi nuovi fenotipi c'è ovvio che il virus si replica e aggiusta sempre il tiro in queste replicazioni non è che è sempre per dire il virus che avevamo a marzo 2020 non esiste più cioè quella mutazione quella espressione del virus non c'è più è sempre lui ma non è più biondo ma è diventato moro e alle lentigini o prima non ce le aveva cioè capite se fosse un individuo è così cioè cambia sempre il suo il suo aspetto il suo il suo codice genetico per certi aspetti no? ha dei geni nei quali ci sono delle mutazioni varianti ce ne sono tante oggi noi sappiamo che ubiquitaria in Veneto in Italia c'è quella inglese che passa l'86% dei casi di positività abbiamo segnali di quella brasiliana l'1,4 2% e per ora sì abbiamo abbiamo sequenziato altre altre varianti che magari alcune non hanno neanche nomi perché magari sono delle sequenziazioni che troviamo ad oggi non c'è un warning per la giapponese in questo momento da noi guardate la verità è che oggi ad oggi i vaccini funzionano invece sulla diagnostica c'è sempre più specializzazione rispetto a avere sempre più ampio spettro rispetto alle varianti ma il tema delle varianti è un tema che è nato nel mondo della diagnostica di recente oltretutto però attualmente c'è il tampone molecolare rileva leggo leggo che rileva insomma la presenza del virus Paolo Guidone buongiorno buongiorno presidente buongiorno allora in questi giorni molti virologi soprattutto quelli che vanno in televisione nei canali nazionali si sono detti assolutamente contrari alla riapertura delle scuole in assoluto proprio in modo molto netto ecco volevo sapere qual è la sua opinione su questo e come si concilia questa questa opinione dei virologi con la richiesta invece molto forte che viene dagli studenti dai genitori anche dagli insegnanti di archiviare quanto prima la didattica a distanza guardate tanto le scuole sono aperte in virtù di una legge perché il decreto legge è una legge in Italia fino a prova contraria quindi non c'è discrezionalità primo secondo aspetto è innegabile e lo dice uno che ha aperto forse tra i pochissimi a livello nazionale la scuola con un mese di ritardo noi abbiamo aperto a febbraio è innegabile che la didattica a distanza e la scuola non in presenza e tutto quello che è accaduto pensate soprattutto alle superiori che sono sfiancate da un anno ormai di questo saliscendi abbiamo lasciato qualche segno non parlo poi del mondo della disabilità dove i progressi sono stati tutti divorati dal fatto di non poter più avere la scuola in presenza ad esempio molti genitori ci segnalano questo dico anche una roba delicata però che sono aumentati anche i fenomeni di autorelegionismo questo è un altro aspetto fondamentale allora io penso che noi abbiamo il dovere di porci la questione lo dice uno che ha sempre sostenuto che tutta la letteratura scientifica sostiene che l'assembramento scolastico cioè mettere 20 ragazzi in un'aula chiusa per 5 ore non sia come stare nel prato da soli a fare il picnic ma boh perché stiamo parlando di un virus dopodiché gli scienziati devono mettersi d'accordo con gli scienziati perché io ricordo che a fine dicembre ci hanno detto dovete aprire le scuole perché è l'ultimo dei problemi che avete fortunatamente internet lascia traccia quindi si mettono d'accordo tra di loro ecco un'altra cosa sempre a proposito di scuola insomma ci sono dei dati che dicono che a causa della DAD c'è stato un forte abbandono scolastico il Veneto ha intenzione di affrontare questo tema dell'abbandono scolastico e se sì come? non ne so nulla noi siamo sempre a disposizione perché la scuola per noi è il faro sociale della società cioè il nostro investimento migliore tutti parlano è banda larga è strade è ambiente se non c'è i ragazzi sui quali investi cioè è inutile che parli di altre robe però tema abbandono scolastico io non ho visto dati freschi del Veneto che dicano questo quindi devo vedere i dati grazie prego tu lo sostituisci la cava bene benvenuto Pittarello e Bonet buongiorno buongiorno mi collego due casi detti in precedenza in questo caso appunto del vaccino c'è il caso di un 80enne che ha fatto la prima dose di vaccino non ha avuto subito un'indicazione di dove andare è arrivata per farla poi appunto al 31 marzo ma al 31 marzo si è presentato lui aveva fatto Pfizer la prima e nel posto appunto di vaccinazione c'era solo AstraZeneca quindi è rinviato e diciamo attende sostanzialmente atteso nei 5 giorni successivi non so appunto se oggi si è arrivata questa diciamo nuova convocazione da questo punto di vista diciamo c'è una data massima periodo massimo previsto per caso di questo tipo no la letteratura ecco tranquillizziamo i cittadini cioè i 21 giorni non è che siamo c'è la letteratura pensate che addirittura su AstraZeneca c'è l'ipotesi dei 120 giorni e quindi c'è tutta una letteratura su questo addirittura abbiamo scoperto strada facendo che più si dilata il periodo parlo di AstraZeneca più si dilata la finestra tra la prima e la seconda dose più alta la risposta anticorpale quindi tanto è vero che è stato modificato anche il tempo di attesa per cui no ci scusiamo considerate che Pfizer è venuto a mancare per cui c'è qualche disservizio che è nato perché voi capite che è difficile mettere in fila la prima dose dagli la prenotazione in mano dici che torni fra 21 giorni in caso Pfizer dopo di che quel signore torna tu ragioni sempre di avere un po' di magazzino perché se ci sono i Pfizer che tornano cioè non è proprio come si può dire qualche pasticcio ci sarà sempre fino all'ultimo vaccinato mettiamoci il cuore in pace ma è importante che sia un punto un po' pochi come questo è importante che vacciniamo è importante che vacciniamo comunque il presidente c'era AIFA che aveva annunciato che si esprimeva in questi giorni portando sia Moderna che Pfizer a 42 giorni quindi raddoppiamo e guardate che non è roba da poco vuol dire che riusciamo a vaccinare più persone con la prima dose vi ricordate quando io proposi di fare la prima dose a tutti anche lì apriti cielo tu hai parlato di virologi apriti cielo come quando ho detto che per fare l'iniezione non ci vuole una laurea io non sapevo che ci fossero animi così suscettibili in giro per l'Italia ve lo ripeto che per fare un'iniezione non ci vuole la laurea per controllare chi fa l'iniezione e gli effetti sul paziente ci vuole una laurea ma per fare l'iniezione ci basta una formazione adesso far una polemica anche su una roba così ma per proprio un'esagerazione e quindi vi confermo che per fare l'iniezione non ci vuole la laurea per fare l'anamnesi prima la verifica del paziente e poi controllare gli effetti ci vuole una laurea e un medico e non si discute su questo ma non penso di aver detto una bestialità che per fare una puntura la chiamo puntura così ci capiamo ci vuole una laurea se no dobbiamo togliere le siringhe e dare le mani di un sacco di gente in giro perché non sono tutti laureati quelli che fanno le punture anzi la stragrande maggioranza eh madonna un'altra cosa invece del piano trasporti di cui ha già accennato prima ho visto che si è scomodato cioè il mondo intero si è scomodato per una siringa la mia portinaia era bravissima prego in che senso ma no io ho semplicemente fatto una considerazione che se vogliamo fare tante iniezioni velocemente dobbiamo avere più operatori che vaccinano ma è quello che stanno facendo in tutti i paesi cioè qua noi stiamo facendo pettinando le bambole no gli israeliani fanno i vaccini all'Ikea e li fanno nei pub offrendo offrendo anche la bibita ai giovani che si fanno il vaccino non dico cioè che sarà un punto di equilibrio in mezzo se l'assessore lanzerei magari di essere il buon esempio praticando una iniezione con tutti i crismi no sapete io c'ho io vi dico la verità proprio perché siamo tra quattro amici nessuno ci ascolta io avevo anche pensato di presentarmi al centro vaccinale a fare le iniezioni però poi ho pensato c'ho una laurea smentisco me stesso o no? ma comunque se mi arruolassero fare le iniezioni andrei mi piace anche per cui no ma penso che potremmo fare una giornata di volontariato con le iniezioni no questa non c'è no ma sì ma anche per dare un segnale insomma guardate io non volevo a parte le battute non volevo urtare la suscettibilità di nessuno però confermo insomma ho detto quello che penso e che è quello che pensiamo tutti ma non volevo assolutamente come si può dire mettere in discussione il fatto che la professione del medico è cruciale nella nostra società ma non può fare la puntura questo è poco ma sicuro qualcuno mi ha telefonato e ha detto hai messo in crisi un settore intero porca miseria con le punture Pitarella è concluso velocissimo sul piano trasporti quello che avevi indicato prima c'era una cifra perlomeno anche spannometrica su quel 50% di mezzi in più sì ve l'avevamo andata ma io non sì c'era andate a vedere quello che abbiamo detto a febbraio quando abbiamo aperto lo stesso modello recuperiamo grazie casomai faccio fare oggi facciamo fare Carlo alla vicepresidente ho comunicato e vi da tutti i numeri così avete i pezzi fatti grazie nel pomeriggio è possibile averlo presidente sì sì Carlo ti ricordi e Bonet buongiorno presidente allora due cose sul tema delle chiusure delle regioni allora ho capito che lei non concorre buongiorno ho detto buongiorno all'inizio sì 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 lo hai detto ti ho risposto mi ero distrato ho visto Carlo che disegnava stavo cercando di capire che quadro sta facendo faremmo la mostra con i bambini insieme no dicevo scusate ho perso il filo ah sì le regioni ho capito che lei contesta il metodo diciamo così i 21 parametri no cioè il percorso di arrivo no dico che va tagliandato non lo contrasto ma dopo di che invece sul tema dei colori e del strumento delle chiusure lei invece che opinione ha cioè prima domanda ritiene che giallo arancione rosso continuino a essere il sistema migliore per identificare i territori la seconda le chiusure diciamo in questo ventaglio da poche chiusure a massima chiusura continua a essere la soluzione oppure per esempio oggi sul Corriere Fedriga diciamo così ha un'idea molto chiara su questo cioè lui dice per me le chiusure sono superate bisogna stare aperti lui fa l'esempio dei parrucchieri con il plexiglass però basta con le chiusure lei che posizione ha su questi due temi ma io sono sempre convinto che il problema non sono i colori delle zone no il problema è cosa si porta dietro il colore di una zona e come quel che si porta dietro viene attribuito io penso che oggi il modello deve essere assolutamente velocemente riterato da un lato dall'altro rispetto alle chiusure con la gradualità e il buonsenso che ci vuole va affrontato ovviamente tutto questo ovviamente sempre passando attraverso il comitato tecnico-scientifico ci mancherebbe però però è pur vero guardate adesso in questi giorni vedo sta poteosi adesso ci mancheranno i virologi che verranno a spiegarci anche sta poteosi della Gran Bretagna cioè la Gran Bretagna ha zero morti ha fatto 130.000 morti la Gran Bretagna e ha fatto 4 mesi di lockdown cioè chiusi a chiave in casa allora io dico siccome in queste ore si sta osannando la Gran Bretagna io dico ma scusate ma vi rendete conto cosa hanno fatto in Gran Bretagna negli ultimi 4 mesi quindi io direi che noi abbiamo imboccato la strada per le aperture dobbiamo mixare come si può dire la possibilità di aprire con la gestione del contagio diciamolo fino in fondo che noi ricostruendo la storia del contagio molto spesso arriviamo a pranzi fatti in casa a occasioni e uno può dire vabbè io me ne strafrego sì se sei asintomatico sì ma se ti devo mettere il tubo in vola allora cambia 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 discorso cioè vorrei ricordare che noi abbiamo pazienti che lottano tra la vita e la morte lo vedete il bollettino tutti i giorni e non è sufficiente dire che potevano essere curati a casa perché purtroppo non è così che questi non riuscivano ad essere curati a casa va bene poi sempre sul tema dei rapporti tra presidenti un'ultima domanda mi riferiscono io devo ammettere non l'ho letta che però ci sarebbe il presidente della Puglia Emiliano che avrebbe detto che il Veneto fa eh ti risulta Carlo scusa vedo che annuivi eh no che avrebbe detto il Veneto fa troppi vaccini e così facendo no azzera il magazzino mette pressione al governo per avere ancora più vaccini insomma se rispettassero il piano che tutte noi regioni ci siamo dati scadenzandola nel corso delle giornate non hai sentito questa roba no io ho letto solo della DAD è la scelta no mi hanno parlato di una polemica sul rispetto del calendario vaccinale e sulle regioni che accelerano troppo chiedendo poi vaccini in più rispetto alle altre regioni no ma guarda partiamo da un presupposto che noi abbiamo una fornitura settimanale che invece di spalmare in sette giorni e dopo avanzartene un po' anche per la settimana successiva come fa qualcuno in giro per l'Italia e facciamo in cinque giorni se è una colpa anche questa ma a me non risulta che il collega Emiliano abbia detto queste robe era per capire se in sede di incontri tra regioni era stato lasciamo perdere Emiliano se era stato posto un problema da parte di regioni che vanno troppo veloci troppo piano non verrà mai posto un problema per un semplice motivo ho omesso di dire una parte mi scuso che se li finisci non te ne danno in più per cui non è che vuoi portare via i vaccini o qualcun altro premesso che sarebbe anche logico che se qualcuno corre di più deve avere di più però quindi uno a casa sua decide se fare i vaccini diciamo in maniera tranquilla oppure a spingere io credo che se noi spingiamo adesso quando arriveranno vaccini abbiamo già una macchina potente se invece andiamo avanti pian pian con calma tanto non cazzo problemi vi ricordate quando facciamo i compiti d'estate da bambini da ragazzini io li facevo sempre gli ultimi dieci giorni avevo sempre una montagna dei compiti da fare prima dell'apertura delle scuole qualche di uno era più furbo se li diluiva io avrei concluso salvo Banzana ancora Tosatto altri una precisazione Presidente al di là dell'incontro che avrete con il Premier giovedì venerdì però è confermato l'eventuale cambio di colore cioè non c'è scritto in nessuna parte che restiamo arancione speriamo non ci sia perché possiamo solo diventare rossi appunto voglio dire cioè noi questa settimana avremo un altro verdetto potremmo restare arancioni oppure no quindi esatto la rivisitazione del modello da lei ho spiegato non è immediato non è immediatissima però ho visto già del materiale la Russo mi diceva questa mattina la dottoressa Russo che hanno fatto riunioni sia a sto fine settimana ne hanno una anche oggi pomeriggio poi dipende quanto veloce va non sarà esecutivo immagino per venerdì ma sentite questa potrebbe essere se gestita bene se fatta bene l'occasione per aprire in maniera sicura in sicurezza modificando il modello però del resto ricordo sempre che nel decreto legge c'è scritto che se si modificano i dati epidemiologici si valutano le aperture in sintesi quindi non è una novità solo della politica lo ha scritto anche il Consiglio dei Ministri nella sua legge va bene? Tosato chiudiamo a proposito del recovery che so starle a cuore lei non crede che ci siano di fatto regioni pienamente in grado di attuare la loro parte del recovery ed altre invece alle quali sarà bene non affidare un centesimo altrimenti finirà come già sappiamo in Audi diceva ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta ok così non fai il titolo lei si si candiderebbe ad usare la sua quota di recovery anche il debito pubblico anche il debito pubblico si purché ci diano l'autonomia sa che ho come l'impressione che dopo le grandi speranze dal governo Draghi il Veneto non riesca a cavare un ragno dal buco sa perché glielo dico al di là della battuta mi sembrava che ci fosse un'interlocuzione avviata con il governo precedente sull'impiego effettivo dei vaccini non utilizzati cioè si era detto chi ne sta usando di più diamogliene di più non lasciamoli però il magazzino hai ragione hai ragione ma il magazzino non ce n'è più e il magazzino non ce n'è più no cioè si può essere chi come il Veneto se li fuma man mano arrivano no ma c'è qualcun altro tira un po' di meno ma alla fine non ci sono magazzini cioè dai dati che ho visto non magari ci può essere una ragione come è accaduto a noi cioè sai la settimana che ti c'è un guaio non riesci a far girare la macchina la macchina complessa 1300 persone schierate per vaccinare in Veneto e comunque guardate noi quei cittadini chiediamo solo comprensione perché è una macchina vaccinale guardate c'hanno mi ricordo cito cito amo sluzzato un grande un grande un grande Veneto e lui era chirurgo e mi raccontò un giorno che lui non si occupava di far nascere i bambini però ai miei anni fa è successo che in reparto mi è arrivato un parto complicato non c'era nessuno e gli ho detto cosa hai fatto e Amos mi ha detto ho fatto nascere il bambino con Cesare e gli ho detto ma tu facevi Cesare no però ero un chirurgo cioè il senso è questo cioè noi poi alla fine cerchiamo cosa voglio dire noi non siamo stati formati per fare la più grande campagna vaccinale del mondo non siamo stati formati per occuparci di una disgrazia che si chiama virus covid coronavirus però siamo qui a governare e lui ha detto però io ero un chirurgo cerchiamo di fare il nostro meglio quel bimbo è nato e anche per noi sarà una rinascita arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti